In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelle che vendevano, dicendo loro «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli iscrivi cercavano di farlo morire. E così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo. Ieri abbiamo visto Gesù che piangeva di fronte a Gerusalemme. Oggi invece si arrabbia dentro il Tempio. Ieri Gesù piangeva la mancata salvezza. Oggi invece condanna l'idolatria degli uomini, perché di idolatria si tratta. Dice la legge Ecco, Dio diventa cattivo, si arrabbia. Quando nel Tempio si riduce la gratuità del sacro al suo commercio, ecco, gli è stato fatto un atto idolatrico. Ad esempio, quando si pagano le messe. A quel punto ciascuno può dire «Quella è la mia messa, l'ho pagata io». E succede proprio così. Abbiamo fatto della messa un atto idolatrico. Ecco, di questo sì, Gesù si arrabbia. Cos'è l'idolo? L'idolo è la nostra idea di Dio. Ogni volta che chiudiamo Dio nei nostri schemi, diciamo che dovrebbe agire in un certo modo. Ogni volta che gli diamo contorni fatti a nostra misura, stiamo facendo un idolo. Siamo come degli stupide che si fanno statuetto e dicono «Ecco Dio». Addirittura la vita spirituale può diventare idolatria. Se crediamo di essere noi a costruire, meritare, ad acquistare la salvezza con il nostro essere buoni, con le nostre opere, con i nostri meriti, sforzi, fatiche, fedeltà. Cos'è l'idolo? È Dio fatto a mia misura. Che mi dà ciò che chiedo. Questa è la comodità dell'idolo. Faccio il sacrificio e poi sono sicuro che Lui mi dà quello che chiedo. Ebbene, ogni volta che noi, per il nostro bisogno di rassicurarci, costruiamo da noi la nostra salvezza, invece di accoglierla come dono totalmente gratuito, entriamo in una dimensione idolatrica. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. Per questo Gesù si arrabbia. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera. E un Tempio fatto così non è più un Tempio di preghiera.